Cristian Vieri, come nasce la passione per il padel dopo tanti anni con il calcio? Dopo un po' non riesci più a giocare a calcio, è uscito questo padel per caso, ho giocato le prime volte a Formentera e poi da lì giorno dopo giorno mi piaceva, perché comunque giocavo spesso a tennis, è un padel dove non si corre tantissimo e riusciamo comunque a stare in un'arena senza fare troppi chilometri, siamo due contro due, ci vuole fisicità, ci vuole tattica, intelligenza e tutti gli ex calciatori comunque si devono muovere un po', perché comunque a correre non hai voglia di andare a correre in palestra non hai tanta voglia, cosa c'è più bello che giocare a padel, quindi tutti gli ex calciatori, tutto il mondo sta giocando a padel Cinque giorni pieni qui a Vieste, come si svolgerà il torneo, questo Vieste Padel Trophy? Noi iniziamo domani alle ore 18, fine alle 21, sono tre giorni di gironi con tutti gli ex calciatori che giocheranno e quindi chi poi non passa il girone giocherà di meno, giocherà una piccola Europa League, quelli che vanno avanti saranno in Champions Cos'è una roba così più o meno, io la chiamo Champions, quelle che vanno avanti, no? E quindi poi ci sarà la finale domenica, poi c'è il torneo amatoriale maschile e femminile che giocheranno in questi giorni la mattina e poi c'è anche il torneo dei sponsor che comunque anche loro faranno i sal 9 e i 10 Qualche nome dei big, dei VIP che prenderanno parte a questo torneo? C'è Candelà, c'è Lucatoni, Amoruso, Budel, Ceccarelli, Candelà, Lucatelli, Papo Gomez, Denis, Perotti, Maini, insomma sono tanti giocatori Sono i favoriti? Perotti, Maini, Ceccarelli, Lucatoni, Lucatelli e Candelà Vieri, è ancora l'Inter la squadra da battere quest'anno in campionato? Sì, è ancora la rosa più forte del campionato, quindi vedo l'Inter ancora davanti a tutti La Juventus? Stanno andando benino, quindi piano piano Sì, è iniziato un mese fa l'allenatore, quindi bisogna dargli tempo, ci vuole tempo in tutte le cose La nazionale di Spalletti? Una partita difficile contro la Francia, dopo un europeo non bello E quindi niente, ora subito con la Francia che non è facile Bobo ha vestito tante casacche in Italia, ma è tifoso di quale squadra? Tifoso dell'Inter, ho giocato sei anni, quindi tanti anni all'Inter, la mia preferita Assessore di Simio, il Bobo Grande Slam approda a Vieste con tanti campioni Ex calciatori di fama internazionale come lo stesso Bobo Vieri, ma anche Candelà, Luca Toni e tanti altri Sì, sì, tanti ex calciatori campioni che daranno tanto immagine e promozione al nostro territorio Siamo ormai alla vigilia di questo grande evento, fortemente avuto dall'amministrazione Ci siamo impegnati tanto per portare questo evento a Vieste e fortunatamente siamo riusciti nell'intento Con tanti sacrifici ovviamente Cosa vi aspettate da questo evento? Ovviamente un evento che coniuga ancora una volta le attività sportive con il turismo Sì, ci aspettiamo tanto a livello sportivo, insomma, quello che è lo sport detta Quindi, insomma, il vivere sano, i messaggi di vivere sano, dell'inclusione, dell'aggregazione E ci aspettiamo tanto a livello anche, diciamo, di promozione e marketing territoriale Perché, come dicevo in tante altre interviste, ormai le attività sportive, gli eventi sportivi Fungono anche da attrattori turistici, quindi questo è un binomio vincente Che questa amministrazione sta portando avanti e cercherà di portare avanti negli eventi futuri Assessore Paglialonga, con la Vieste Padel Trophy si conclude una lunga e ricca estate viestana di eventi Sì, assolutamente, con questo evento chiudiamo in bellezza il calendario degli eventi estivi 2024 Ed è un evento importante perché riesce ad unire lo sport al turismo e incentiva la pratica sportiva Poi il padel è uno sport che sta prendendo sempre più piede a livello proprio mondiale Perché può essere praticato da persone di qualsiasi età Tra l'altro, con l'arrivo di questi calciatori e campioni italiani e mondiali Riusciremo ad avere un risalto mediatico e allo stesso tempo promuoveremo il nostro territorio